Ciao a tutti, oggi sfogliamo il nuovo Burda Style, il numero di febbraio, è una cosa insomma che vi anticipo per questa rivista, mi sono accorta che le taglie dei modelli arrivano fino alla 48, poi vediamo nel dettaglio appunto come è strutturata la rivista, comunque c'è stata questa novità, ho controllato nel numero precedente c'erano ancora dei modelli fino alla taglia 52, in questo qua invece mi sembra di non averne visti appunto. Prima di iniziare proprio a sfogliare la rivista volevo avvisarvi di questa cosa, per questo numero ci sono diversi modelli che mi sono piaciuti, infatti adesso ve li mostro nel dettaglio e come al solito cerco di darvi anche qualche consiglio sui tessuti che potete utilizzare per cucire i modelli della rivista e che trovate appunto in vendita sul mio shop online, come sempre tutti i link in descrizione, sono arrivate anche le novità per la prima vera estate e in più avete il link per iscrivervi alla newsletter e avere il 10% di sconto che potete usare anche sui nuovi arrivi. Allora eccoci qua, iniziamo subito col primo modello che è tra quelli che mi sono piaciuti molto che è il bermuda difficoltà 3 taglie 34 e 44, questo lo vedo molto bene con un tessuto in cotone mistolino per l'estate e anche con appunto un completo molto carino, appunto il modello ha le tasche sul retro che però sono finte credo, il cinturino è la zip con la patta e come al solito vi ricordo che sul canale trovate proprio un video tutorial per realizzare questo dettaglio che magari vi può essere utile, ve lo lascerò linkato giù in descrizione. Andando avanti abbiamo questa gonna che sembra avere il cordino qui sulla vita, un modello molto semplice infatti ha difficoltà 2 taglie 36 e 44, in questo caso potete utilizzare un tessuto di viscosa per dare una bella leggerezza e anche insomma per tenere una gonna abbastanza più leggera appunto da indossare per la prima vera estate, quest'abito qui è uno chemisier con questi cordini in vita appunto per stringerlo, mi piace il dettaglio della manica a 3 quarti con l'elastico in questo caso le taglie sono 34 e 44, difficoltà 2, i bottoni sono automatici, infatti potete utilizzare i bottoni secondo me hanno rack, sono più carini appunto per chiudere l'abito, in questo caso non serve fare le asole quindi è anche molto più semplice applicarli. Sul canale trovate un tutorial su come applicare questo tipo di bottoni, anche quello ve lo lascerò linkato giù in descrizione. come stoffa in questo caso hanno utilizzato una viscosa, secondo me potreste andare anche di un lino misto viscosa per dare anche un corpo e anche una texture più estiva diciamo all'abito modello abbastanza semplice questa t-shirt, questo modello in particolare copre le taglie dalla 36 alla 48, è particolare perché ha questo dettaglio sui fianchi che appunto crea questa arricciatura e appunto la difficoltà di questo modello è il 2, i tessuti, un tessuto consigliato è assolutamente il jersey comunque che tiene una bella elasticità sulle t-shirt, è perfetto. Da questa parte invece un altro modello che mi è piaciuto molto, ultimamente sul burda mi stanno piaciendo molto i modelli dei pantaloni che propongono, in questo caso le tasche appunto tagliate qui sul fianco, il tessuto che hanno utilizzato è un misto cotone, quindi potete usare comunque un tessuto appunto lino misto cotone, le taglie sono 36 e 44 e la difficoltà è 3. Un altro abito che arriva fino alla taglia 48, in questo caso appunto 36 e 48, difficoltà 2, quest'abito a portafoglio un po' stile kimono, con la manica appunto che non ha il giro manica quindi è tutto un pezzo, infatti è molto semplice, in questo caso hanno usato un tessuto in viscosa e infatti sarebbe stato quello che vi avrei consigliato io, molto carino il fatto di utilizzarlo così con una maglia sotto, magari ancora adesso che fa un pochettino più fresco, invece poi quando fa caldo insomma lo potete utilizzare senza niente sotto, è molto carino comunque come abito. Da questo lato abbiamo un modello simile però fatto un po' diverso, nel senso che in questo caso il giro manica lo abbiamo, di questa blusa in taglie 36 e 44, a difficoltà 2. Per questo modello potete usare un tessuto in cotone, quindi ad esempio un popelin va benissimo, comunque un cotone leggero, o in alternativa tra i tessuti nuovi vi propongo il cotone misto viscosa, che è anche abbastanza leggero e secondo me per questo modello va benissimo. Modello Masterpiece mi è piaciuto molto questo impermeabile, difficoltà 4 appunto Masterpiece e le taglie vanno dalla 36 alla 44, il modello è molto interessante, in questo caso non ho utilizzato un tessuto impermeabile, ma in alternativa potete optare per un twill di cotone, secondo me appunto il modello di per sé è molto semplice, c'è il cappuccio e poi anche in questo caso bottone anorak per chiuderlo, per cui in generale diciamo è difficile perché è foderato come modello, l'avevo visto le istruzioni, però per il resto in realtà i dettagli, appunto la bottonatura, anche le tasche, il cappuccio, in realtà sono dettagli abbastanza semplici, dipende un po' anche dal tipo di tessuto che scegliete di utilizzare, il twill secondo me da cucire è abbastanza semplice, e per la fodera interna potete optare anche qui per un cotone leggero. Un'altra blusa, questa in taglie 36 44 a difficoltà 3, in questo caso hanno usato un tessuto fermo in cotone, quindi un po' pelin di cotone, dettaglio polsini normali, senza collo, abbottonatura classica. Da questa parte abbiamo la camicia da uomo, a manica corta, quindi abbastanza estiva, taglie 48 56 da uomo, trovate poi, vi mostro il punto nella rivista, la tabella delle taglie anche prima dell'uomo, hanno usato lo stesso tessuto, quindi un po' pelin di cotone va benissimo. Apro una piccola parentesi, tra un po' arriveranno i video proprio dedicati alle camicie, perché ho proprio in previsione di cucirne una per me, e come ho già fatto per la felpa, per i jeans, per il cappotto, pensavo proprio di creare una serie di video dedicati proprio a questo progetto, e quindi quei video magari vi possono essere utili anche per realizzare una camicia proprio come questa. Andando avanti, sempre taglie 48 56 da uomo, questa giacca, che se vedete come modello è molto simile ad una camicia, quindi torniamo sul discorso appunto di tutorial, e in questo caso hanno utilizzato un tessuto un pochettino più sostenuto, qua vi consiglio il twill, o addirittura un denim, potrebbe andare bene per questo tipo di modello, anche in questo caso hanno fatto la bottonatura classica, ma volendo, proprio perché è una giacca, potete optare per i bottoni anorak, quindi quelli automatici in metallo. Qui invece c'è un abito con tutte queste pieghe, infatti è un dettaglio molto interessante, anche solo per allenarsi su questo tipo di appunto di dettaglio, taglie 36 44 a difficoltà 2, viene bello svasato sul fondo ed è molto semplice sulla parte alta, infatti è rifinito immagino con uno sbieco sia sul collo che sul giro manica e sul retro ha una zip, carino come modello, appunto a difficoltà 2, in questo caso potete usare un cotone in mistolino oppure anche un tessuto 100% cotone, anche un popelin secondo me può andare benissimo. Questo è un modello che mi è piaciuto molto ed è anche un super easy, si tratta di quest'abito lungo e con questo diciamo dettaglio aperto qui sulle spalle, molto moderno come modello, e appunto a difficoltà 1, le taglie sono 36 44. Per questo modello consigliate ovviamente un tessuto in jersey e io in particolare opterei per uno dei jersey a costine che appunto trovate sullo shop che secondo me per questo tipo di abito si sposa proprio benissimo. Qua abbiamo la scuola di cucito per la giacca che abbiamo visto prima da uomo. Andando avanti, progetto di cucito creativo il marsupio, questo è a difficoltà 3. Qui la panoramica dei modelli, qui invece inizia tutta la parte delle istruzioni e oltre anche qui alla panoramica dei modelli qui trovate subito la lista con tutte le tabelle delle taglie e quindi potete confrontare appunto le vostre misure, prendete le vostre misure come indicato qui nel figurino e confrontarle con quelle del borda per trovare la taglia che si avvicina di più alle vostre necessità. Stessa cosa qua in fondo con le taglie uomo. E poi abbiamo tutte le istruzioni per tutti i modelli della rivista, i cartamodelli eccetera eccetera. Qui piccolo spoiler, ve lo inserisco già all'interno di questo video, appunto parte la stagione primarile di Abilmente, io sarò presente con il mio stand ad Abilmente Vicenza dal 23 al 26 di febbraio. Comunque se volete maggiori informazioni potete venirmi a seguire su Instagram che così insomma potete anche chiedermi eventuali informazioni in più anche lì per venire in fiera. Poi andiamo avanti, qua c'è un blazer Masterpiece, quindi sempre difficoltà 4, tra le 36 e 44 non mi dilungo troppo, insomma è il classico blazer che comunque è presente praticamente in tutti i numeri, se non siete degli abbonati a burda comunque è sempre utile trovarlo all'interno della rivista, come modello mi piace anche il fatto che abbia questa doppia bottonatura ma solo sul centro. Qui abbiamo la versione a maniche lunghe della t-shirt che abbiamo visto prima, quella ricciata sui fianchi, quindi se volete non c'è solo la versione a maniche corte ma potete fare anche la manica lunga o adattarla per farla a tre quarti, come piacerebbe a me. Qui abbiamo di nuovo l'abito che abbiamo visto prima, quello con tutte le pieghe, qui lo potete vedere in tinta unita. E qui invece abbiamo un abito chemisier, molto carino, secondo me, con appunto questo dettaglio che stringe in vita e quindi viene poi tutto arricciato sulla parte della gonna ma anche sul fondo qua della parte alta. In questo caso taglie 36 e 44 e la difficoltà è 2, anche questo lo potete fare con un popelin di cotone. Pantaloni un po' in stile cargo con i tasconi qui sul lato, anche questi arrivano fino alla taglia 48, partono da una 36, quindi 36 e 48, difficoltà 3, ci sono diversi dettagli, vi rimando sempre al video della zip con la patta che può esservi utile anche per questo modello. In questo caso, secondo me, interessanti in twill, questo tipo di pantaloni, interessanti anche in lino cotone, se li volete più leggeri per l'estate, se no anche il denim è un tessuto che va benissimo per questo modello. Di qua invece abbiamo questa gonna con delle pieghe, questa qui in taglia è 36 e 44, difficoltà 4, in questo caso potete apputare per un tessuto fermo, sicuramente, e appunto in questo caso hanno utilizzato addirittura un doppio tessuto per creare questo effetto qui sul fondo, in alternativa potete anche allungare il modello in modo da unire la parte 1 e la parte 2 in un unico pezzo e quindi farla in un unico colore. Un'altra maglia, questa qui, questa è molto semplice, dal figurino vediamo che non ha neanche il giro manica, quindi è proprio tutto un pezzo, ha gli spacchetti sul fondo, molto carina, e questa qui in taglia è 36 e 44, difficoltà 2, potete usare un tessuto di cotone semplice in questo caso, anche perché se non sbaglio il collo comunque è abbastanza ampio, quindi anche con un tessuto fermo non dovreste avere problemi ad indossarla. Andiamo avanti con la versione canotta del vestito che abbiamo visto prima, quindi sempre jersey di cotone o anche il jersey a coste, se appunto vi piace l'effetto, a me piace molto come effetto, e qui abbiamo quest'abito, un tubino abbastanza strutturato, questa difficoltà 3, le taglie sono 34 e 42, quindi sono taglie più piccoline, magari anche per ragazze più piccoline possono andare bene, perché appunto la taglia 34 è abbastanza piccola, da questo lato abbiamo una t-shirt stile polo, con la bottonatura sul davanti e il colletto, e anche in questo caso consigliato un jersey di cotone. Le taglie sono 36 e 44, la difficoltà è 3. Un abito comodo questo con lo scollo AV, molto profondo, i polsini appunto sulla manica, e questa apertura sempre con bottone no rack, ce lo spacco sui laterali, da entrambi i lati. Questo è in taglie 36 e 44, difficoltà 3, è meglio usare appunto un tessuto comunque un po' elasticizzato, una felpa può andare benissimo, un French Terry per questo tipo di abito. Da questo lato invece abbiamo questa giacca corta, dopo in un'altra versione ve la mostro meglio, è un modello che mi è piaciuto molto questo, taglie anche qui 34, 44 però, e difficoltà 3. casacca, questa anche taglie 36, arriva fino alla 48, e ha diciamo le pants sotto al seno, le maniche in stile camicia, sempre col dettaglio a polsino col bottoncino, e poi questi nastri sul collo, insomma in stile cravattino aperto, penso che li potete anche annodare, in questo caso hanno usato un tessuto di viscosa. Da questa parte invece abbiamo questa blusa, è praticamente una camicetta con il colletto, la manica un pochettino così, è un po' retro come modello, è più corta, vedete, tipo a tre quarti, sempre col dettaglio un po' il polsino, ma in questo caso il polsino è senza bottoni o altro, semplicemente viene così semplice, e la bottonatura classica sul davanti. Questo modello mi piace molto, proprio perché è un pochino retro, sapete che a me piacciono quel genere di modelli, in questo caso va benissimo un tessuto di cotone, un raso di cotone o un po' pelina anche di cotone. Eccolo qui, la giacca in questo caso l'hanno fatta con un tessuto di cotone, per questo modello vi consiglio sia il twill che il denim, secondo me sono molto carini, e la difficoltà è 3, sempre taglio 34-44, appunto viene un pochettino a palloncino, perché ha delle pieghe sul fondo, e si chiude con la zip, e invece le maniche si chiudono con l'elastico sui polsini. A me piace veramente tanto sto modello, e anche questo mi ricorda un po' uno stile un po' retro, il fatto che sia comunque corto, con un pantalone, un bel pantalone vita alta, secondo me è molto carino. Qui abbiamo la gonna di prima, in questo caso hanno usato questo, diciamo, tessuto misto lino viscosa, infatti potete optare anche per un tessuto di quel tipo, che comunque resta abbastanza fluido. Una shirt come quella che abbiamo visto in precedenza, in questo caso hanno aggiunto, diciamo, il dettaglio della cinta in vita con lo stesso tessuto, e questa è in viscosa, e ha l'elastico sul collo. Invece da questa parte abbiamo una gonna, con il cinturino, arricciata in vita con il cinturino e la zip, di una gonna simile a questa, avevo fatto un tutorial, che magari vi può essere utile, appunto da seguire, proprio per realizzare un modello come questo. Le taglie sono 36-44, la difficoltà 2. In questo caso, io avevo utilizzato per la mia, un cotone guterman, quindi un popelin di cotone, che va benissimo, se appunto la volete sfruttare per la primavera estate. Il blazer di prima, solo con un tessuto a righe, qui abbiamo il tubino, invece quello in taglie piccole, che abbiamo visto prima. Un'altra camicia, questa più lunga, quasi ad abito, e con gli spacchi sul fondo, e i nastri, che chiudono appunto i polsini, anche questo è un modello particolare, va dalla taglia 36 alla taglia 48, quindi è come se in questo numero ci fossero camicie, praticamente per quasi tutte le taglie, ecco, e la difficoltà appunto è 2. In questo caso, consigliato, hanno usato un tessuto in misto viscosa, e io vi consiglio sempre un cotone leggero, in questo caso, ad esempio il cotone misto viscosa, potrebbe andare bene, perché resta comunque abbastanza leggero, e in alternativa comunque anche un popelin di cotone, va benissimo. Qui lo stesso abito, che abbiamo visto prima, quello un po' a kimono, semplicemente con la manica più lunga, infatti c'è proprio un pezzo di tessuto, che si aggiunge, per creare l'effetto manica lunga, anche questo l'hanno fatto in viscosa. Qua abbiamo la scuola di cucito, della giacca, che mi piaceva molto, e infine abbiamo un, diciamo, tutorial, per realizzare appunto un fiocco come questo, da utilizzare appunto come decorazione, per i capelli, e qui abbiamo le anticipazioni, invece per il numero di marzo, che uscirà se non sbaglio, il 20 di febbraio in edicola. Quindi questi sono tutti i modelli contenuti all'interno del numero di febbraio, fatemi sapere cosa pensate insomma della rivista, secondo me comunque è un bel numero, così nel complesso, però appunto voglio sapere anche i vostri commenti a riguardo, come al solito vi ricordo che giù in iscrizione trovate i link, sia al mio shop che all'iscrizione alla newsletter, per avere il 10% di sconto su il vostro primo ordine, e anche i link per seguirmi sui social, quindi se avete voglia di seguirmi appunto anche nei backstage, delle cose che non vedete solitamente qui su YouTube, mi trovate appunto su Instagram, eccetera eccetera con le storie, vi lascio appunto tutti i link giù in descrizione. Grazie per aver visto il video, ciao!